ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi qui a su ardi sul poco l'amico demo per provare per provare attenzione dillo tu come si chiama questo il boss il boss ragazzi perché si chiama il boss perché quando lo prendi in mano quando lo brandisci ti senti quando lo brandisci non lo prendi in mano rientra nei miei gusti il cameraman ride sarà un disastro ragazzi non taglio niente lasciamo tutto così ragazzi andiamo a provare insieme il boss di demo coltelli via no 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 Grazie a tutti. 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 La cosa che mi stupisce tanto, che mi piace tanto del boss è il fatto che ha una pacca, ragazzi, entra veramente bene. Cioè, avete veramente un ottimo, ottimo battente. Oh, ragazzi, andiamo dentro per la dimensione del coltello. Fa il filo, al filo, arriviamo giù che taglia da Dio. Spacca, figa, a livelli incredibili, ragazzi. E' veramente, veramente, sono rimasto un po', così, non mi aspettavo questa potenza, non mi aspettavo questa potenza, anche per le puntine, per queste cose, non potete pensare di cioppare un albero, ragazzi. Però, ma proprio, ma, è un coltello, che è un coltello, ragazzi, è un coltello, ragazzi, perché ha potenza, ha potenza, ancora un coltello che è stato studiato bene a Davide, coltello che funziona bene, in mano, ragazzi, all'inglese, vi fa godere, non ha spigoli vivi, tanta roba, tanta roba, complimenti ancora Davide, veramente bel prodotto. ragazzi abbiamo in mano un vero carro armato il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info ragazzi beccatevi qua il boss beccatevi il boss e i ricciolini del boss mamma mia che spettacolo che spettacolo il boss fa giù dei ricciolini da paura il boschetto dei ricciolini dice demo mamma mia che bello tutta mattina che tritiamo ragazzi fatto la legna appunto legna trovata sull'argine sapete benissimo che è sporca di sabbia di terra di triti tagliente fa paura oh fa paura ragazzi ricciolini da godere ma da godere che bello che bello che ricciolini ragazzi tanta roba tanta roba tanta roba tanta roba tanta roba bella lì va che roba va che parrucca mi faccio la parrucca oh va che roba oh tra i migliori mai fatti in assoluto io che sono un somaro poi è quasi un peccato bruciarlo è quasi un peccato bruciarlo daremo fuoco a Edo adesso per prendere fuoco perché è un peccato bruciarlo ragazzi spettacolo veramente spettacolo il coltello mi è piaciuto di brutto vedere siamo inquadrati ragazzi coltello bello 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 comodissimo in mano i manici vi possono piacere o no ma ragazzi se il coltello lo utilizzate e non state a leccarlo in vetrina è un coltello che in mano è comodissimo non ha spigoli che mi fanno male sta bene di brutto in mano coltello nel batone in spacca che è una goduria considerando comunque che un sabre molto alto al limite col full flat direi ragazzi bello 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 bravo Davide bravo 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 ma soprattutto ragazzi potete usarlo come strumento unico venite a po' a farla grigliata vi spaccate la legna tagliate la legna col seghetto ovviamente poi ve la spaccate ve la battonate con lui vi fate i ricciolini i capelli d'angelo parrucca di zio floriano ragazzi vi fate la grigliata tagliate il salamino tanta roba Davide veramente tanta roba bene ragazzi vediamo se facciamo anche il fuocherello andiamo a vedere se abbiamo deciso di bruciare la nostra parrucca però vediamo se va dai vediamo se va la nostra parrucchina dai che andiamo eccolo qua eccolo qua che ha preso ragazzi eccolo qua che ha preso il nostro bel fuocherello adesso mi cucino il ginocchio prima di tutto ragazzi bel coltello fa anche partire il fuoco bravo Davide è veramente un coltello che nel suo utilizzo viaggia veramente bene ma veramente soddisfatto bello 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 in mano una bomba ragazzi mi interessano coltelli da usare veramente da usare e usare ancora questo è un coltello che vi consiglio assolutamente perché oggi qui a Po è andato una bomba ragazzi dopo aver stressato per bene il nostro boss qui a Po vediamo come è andato qui davanti dove abbiamo picchiato mica da ridere ha perso un pochettino ragazzi adesso vi diamo quando arrivo a casa gli do una bella passatina vediamo se si riprende con lo stroppo oppure c'è bisogno di una passatina sulla pietra ragazzi perso un pochettino ci sta abbiamo pestato su legna dura ma soprattutto sulla legna piena di sabbia che si trova sulla riva del Po questa cosa da mettere in conto e ragazzi tenete sempre conto cosa fate con i coltelli perché finché ci spaccate roba normale è una cosa quando iniziato a spaccare la linea di fiume è un'altra veramente un'altra roba chi lo sa sa benissimo cosa sto dicendo e c'è il punto lì davanti è un pochino perso però andiamo a recuperarlo tranquillamente dietro è rimasto affilatissimo proprio qua da metà lama fino alla curva è rimasto un pochino appannato senza nessun tipo di danno a casa gli diamo una passatina e vediamo come viene ragazzi coltello solamente stroppato una passatina sui diamantati ragazzi è venuto fuori in alametta da barba è tornato in alametta da barba affilatura del nostro demo spettacolo ragazzi davvero tanta roba ragazzi ottimo ottimo pezzo ottimo coltello è andato oltre le mie aspettative veramente non mi aspettavo una potenza così alta considerando la dimensione del coltello davvero tanta roba mi è piaciuto un casino nelle cioppatine è andato come un proiettile ricordatevi ragazzi che comunque cioppare spaccare lavorare sulla legna trovata all'argine del fiume non è mai una scelta intelligente perché è piena di detriti e di sabbia quindi secondo me ragazzi coltello che ha superato la prova al 110 per cento eccolo qui ragazzi eccolo qui nella sua arroganza il boss il boss di demo coltelli ragazzi coltello testato a fiume siamo andati a po sono andato da demo con gli amici a testarlo abbiamo testato il coltello una mattina e poi siamo fatti ovviamente la legna per farci le sausicchie e la pancettona bella cicciottosa sul fuoco ragazzi il coltello è andato uno spettacolo veramente tanta roba di sto ragazzo se ne sono dette di cotte di crude è partito veramente con delle cose inguardabili adesso sta tirando fuori ragazzi sta facendo un mare di esperienza e sta tirando fuori dei coltelli sempre più performanti ragazzi il coltello arrogante secondo me la parola giusta è proprio arrogante un coltello che nel batoni non ha paura di nulla abbiamo spaccato roba veramente grossa veramente dura mettendolo a dura prova soprattutto il tagliente perché ragazzi voi siete degli scureggioni e state a casa e sta cosa non la sapete come avevo detto prima nelle prove di taglio quando andate vicino a un torrente a raccogliere la legna ragazzi nel greto di un torrente a raccogliere la legna ragazzi la legna è sporca alla sabbia ai dietriti i sassolini quindi quando andate a lavorare su questa legna che ci fate sia batoni shopping anche le punte ragazzi il coltello comunque il filo del coltello ne risente veramente tanto qui abbiamo un filo che è ancora quello che mi ha fatto demo di casa ragazzi che si era semplicemente appannato in questa parte qui davanti perché eravamo andati a cioppare mica da ridere quindi ragazzi a livello di tempo di tenuta del tagliente per me ragazzi è un dieci perché comunque abbiamo veramente cioppato e spaccato sta legna sporca proprio di sabbia di terra e voglio vedere quale altro coltello ragazzi sarebbe uscito con un filo perfettamente a rasoio dopo è bastata comunque una passatina sui diamantati quello da 6 micron e quello da un micron per farlo tornare un rasoio da barba ripeto filo del nostro demo ragazzi come vedete filo originale del nostro demo sta iniziando anche a gocciolare speriamo che mi faccia finire questa chiacchierata con voi ragazzi il coltello nella sua interezza misura 25.5 con questa lama tagliente utile 12.5 sullo spessore della costruzione full tang di 5 mm ragazzi costruzione full tang lavorata qui sul codolo a lima e andiamo giù che è uno spettacolo demo mi ha detto volevo fare qualcosa di un pochino più bello creativo di un pochino di più ricco ragazzi perché comunque da vedere è veramente un bel lavoro ragazzi veramente un bel lavoro un bel lavoro tanta roba ragazzi tanta roba davide sta tirando fuori dei bei pezzi poi vi piacciono non vi piacciono la geometria le forme quello che volete ragazzi però oggettivamente sta tirando fuori sempre dei pezzi più rifiniti ragazzi più belli da avere in mano altra cosa che voglio farvi notare però in quasi impercettibile le guancette hanno un leggerissimo finger groove non sono piatte completamente hanno un finger groove che non riesco a farvi percepire hanno la forma delle dita ragazzi quindi quando avete in mano il coltello è bello comodo è comodissimo in mano hanno veramente questo non riesco a farvelo percepire ragazzi hanno la forma delle dita comunque leggera leggera che quando prendete in mano il coltello il coltello si aggancia bene alla mano guardate che roba qui veramente diventate il boss ragazzi diventate il boss assoluto con in mano questo coltello mega mega arrogante 5 mm di 2 ragazzi siamo passati nel legno duro è andato alla grande coltello creato da davide pensando uno strumento unico vi portate un seghetto questo coltello ci tagliate dal salamino visto che è un rasoio da barba a praticamente ci spaccate la legna gigantesca quindi abbiamo spaccato roba veramente grossa per la sua portata ai ragazzi ma dove mi ha impressionato di più è stato nel shopping ragazzi che tra l'altro il laccetto per me era corto non potevo prenderlo nella mia nel mio modo classico perché mi stava veramente corto allora l'ho messo sul polso ragazzi in questo modo e quindi non avendo diciamo al 100% la mia comodità con il laccetto il coltello non è scappato per nulla e tirava di quelle pacche nel shopping veramente impressionanti tanta roba ragazzi tanta roba tanta roba fatemelo asciugare che sta gocciolando e lo volete vedere nella sua massima bellezza ragazzi tanta roba davvero è andato che è un proiettile davide hai fatto un bellissimo lavoro bellissimo lavoro complimenti 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 anche la punta ragazzi guardate la punta che l'ha lavorata in questo modo con questo accenno di bisellatura superiore bello 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 di punta ci siamo andati cattivi e vediamo se riesco a farvi vedere tutti gli sfrisate sulla punta no perché è troppo lucido il coltello eccole lì che le vedete siamo andati dentro bene ragazzi il coltello ovviamente non ha avuto nessunissimo problema continua a piovere maledizione ragazzi guancette eccole qua fiammate adesso non mi ricordo cos'è sto legno ragazzi davide ve lo dirà sicuramente fiammato e bellissime bellissime finitura veramente spettacolo belle 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 ragazzi davvero tanta roba davide complimenti perché stai tirando fuori dei pezzi veramente belli il jimping eccolo qui che lo vedete ragazzi bello preciso dove serve dove serve andare a lavorarci un bel jimping che non dà così fastidio il fuoco lo fa partire al volo come avete visto avete un coltello che vi portate questo ragazzi per un campo un seghetto e questo coltello ci fate assolutamente tutto potete fare anche le cioppatine di roba abbastanza grossa perché come ha sorpreso me sorprenderebbe anche voi nei colpi ragazzi ha veramente una bella massa battente un bel colpo tanta 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 roba tra l'altro bisellato ottimamente da davide vada che bello bello ragazzi è praticamente quasi un full flat ragazzi un sabre alto alto nel legno i primi colpi servono a farlo entrare poi appena prende spessore lo apre ragazzi il coltello arriva giù bello fino al tagliente quindi se dovete fare anche compiti di incisione sui pomodorini del nome della morosa potete farlo tranquillamente e la morosa è felice ragazzi con davide con davide ci siamo trovati perché ci siamo trovati perché ci divertiamo perché ci ricordiamo che abbiamo in mano dei pezzi di ferro con un manico perché ragazzi il bello della di questa parte almeno quello che io ritengo il bello di provare coltelli è conoscere persone con queste persone instaurare un rapporto con davide ormai siamo amici siamo veramente amici sua mamma mi ha dato anche la cassero da portare a casa da mangiare ragazzi tanta roba l'ho mangiata ieri sera buonissima grazie mille alla mamma di davide davvero tanta roba e quindi con davide c'è lo spirito giusto le recensioni sono un po così buttate sull'ironico però ragazzi alla fine quando un prodotto funziona quando in mano sta bene quando viene veramente lavorato perché questo accenno di finger groove ragazzi è da provare da vedere mi girano le balle che non riesco a farvelo percepire però è veramente uno spettacolo quando ragazzi un strumento funziona ci si può prendere anche la briga la briga la libertà diciamo la libertà di fare le recensioni un pochino spiritose prendendo anche in giro il nostro cameraman ragazzi coltello che arriva col foderino eccolo qua che ve lo faccio vedere entra perfettamente e qui lo chiudete ragazzi col suo gancettino lo avete in cintura in cintura portato tutto il giorno non dà assolutamente problemi ragazzi fa dei bei lavori sto davide 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 partito così poi si è tirato fuori veramente con dei lavori eccellenti o lavorazione a lima voglio vedere chi trova qualcosa da dire voglio vedere ragazzi sembra fatta sì sì tanto che precisa bravo 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 davide bravo 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 ragazzi coltello fatto con lavorazione a lima di due come come vedete il mio coltello questo coltello che ho in mano davide ve lo portate a casa con 240 euro ragazzi c'è del lavoro c'è del lavoro veramente tanto tanto lavoro poi comunque sentite lui anche il legno che scegliete tutto però più o meno esattamente se lo volete come il mio che secondo me è veramente bello 240 euro artigianale fatto da zero ha finito con le manine di davide sono 240 euro se lo volete senza la lavorazione a lima ragazzi però ripeto sentite lui dovreste scendere di una trentina quarantina d'euro però ripeto sentite lui che sicuramente vi risponde meglio di me a me è piaciuto anche con due stroppate si è ripreso quindi la tempra di questo d2 è stata fatta veramente bene demo coltelli una soddisfazione oltre aver trovato un amico che secondo me è la cosa più importante ragazzi degli strumenti che sono diventati degli strumenti veramente efficienti fatti con delle chicche con delle finiture con questi dettaglini ragazzi perché nel dettaglio si fa la differenza demo tanta roba non dico neanche passi di gigante da gigante da quando è iniziato molto di più con il boss è tirato fuori veramente un bel coltello per andare con uno strumento unico nel bosco tanta 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 roba noi andiamo alle conclusioni finali il boss di demo coltelli ragazzi coltello piccolo compatto che però nel suo va uno spettacolo tornando seri dopo una giornata praticamente ci proviamo dopo una giornata a ridere ragazzi perché qua ci facciamo delle grasse risate quando proviamo i coltelli ragazzi il coltello ha dato una bomba veramente tanta roba per la sua dimensione non me lo aspettavo così performante anche nelle piccole operazioni di shopping davvero va via che è un piacere batoni spacca bene pur essendo non dico un full flat ma quasi ragazzi è un sabre molto alto veramente tanta roba bello 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 lavorazione a lima manico fiammato ragazzi fodero in cuoio un bel coltello lavora bene se vi serve uno strumento da usare ragazzi non da tenere in vetrina da leccare con l'amorosa con l'amorosa leccate altro sbaglio il cameraman annuisce anche se non ha mai provato quindi ragazzi un coltello che funziona bene stai cercando qualcosa da utilizzare provatelo davvero perché secondo me ne rimanete veramente innamorati nei ricciolini vavo aura un coltello che diventa strumento unico vi portate questo ragazzi insieme un seghetto ci fate tutto dal salame ai ricamini sui pomodori a spaccare la legna una bomba demo di due parole anche tu dai raccontaci un po niente allora adesso che lo sentiranno io l'avrò già descritto va bene perfetto allora questo coltello in d2 da 5 mm di spessore sono 25 centimetri e mezzo totali e 12 e mezzo di lama utile e niente si è pensato per essere uno strumento utile un po in tutte le situazioni soprattutto magari per il batoning ha la sua giusta robustezza in modo da non da non farsi venire un infarto ecco con magari con un pezzettino certo ed è pensato per avere un coltello niente di esagerato niente che ha troppo nell'occhio una dimensione giusta da portarsi in giro che però appunto ti permette di soddisfare di fare un po tutto infatti è il bello del coltello è il bello del coltello c'è la la sua bella robustezza è bello massiccio la giusta è quella che secondo me è la giusta ergonomia per la mano un'impronta delle dita non esagerata ma quel che serve ve lo dico sempre possono piacervi o non piacervi questa è una questione di gusti fatto oggettivo ragazzi questi manici in mano sono una bomba una bomba e poi che nei fatti tu non ci credo capito non ci credo che tu possa aver fatto qualcosa di così bello non ci credo tra l'altro lavorazione a lima fatta molto bene come mai questa idea volevo fare un modello con un po più l'estetica del solito ecco unire la funzionalità iniziare a dare dei tocchi di estetici ai miei prodotti ecco bello far vedere anche un attimino che qualcosina qualcosina di credevole di credevole alla vista è bello diciamo bello bello ragazzi coltello che ripeto a me è piaciuto veramente molto come strumento unico insieme a un segreto con questo ci andate a nozze dimensione compatte ragazzi che dire più di così davide complimenti grazie dall'inizio passi enormi enormi giganti proprio ragazzi provatevi un demo coltelli che ne rimanete veramente soddisfatti scusate ma dietro stanno facendo dei gesti che avevo interpretato male pensavo che stavi facendo altro la recensione un po così oggi ragazzi però siamo con gli amici siamo con gli amici sul po farci la grigliata e in più abbiamo provato il coltello davide bravo bravo grazie ragazzi dal boss di demo coltelli da demo coltelli davide al barcato del tagliagole è tutto buona giornata ciao a tutti ciao